Questo programma è offerto da Tecnocampus. Il programma è offerto da Tecnocampus. Il programma è offerto da Tecnocampus. Anche questa mattina sono tantissimi fatti in primo piano. Si parlerà di politica, sembra che ci sia stato un avvicinamento tra Matteo Salvini e il vicepremier Di Maio. Quindi un fiato viene tirato proprio da Conte che comunque aveva dato un ultimatum ai suoi due vicepremier. E ancora vediamo tanti altri fatti. Si parla ancora di magistratura, ancora sono in primo piano tutte quelle che sono le situazioni sempre inerenti, la corruzione e ovviamente tutti i punti di domanda che questa situazione ormai sta portando con sé. Ma insomma tanti fatti che andiamo a vedere subito con le testate nazionali. Cominciamo questa mattina con il Corriere della Sera e vediamo infatti che proprio in apertura di pagina c'è il CSM. Così pilotavano le nomine gli incontri tra toghe e politiche in hotel e alle cene. L'irritazione di Mattarella che dice questa è una ferita gravissima. Infatti altri due consiglieri si autoespellono e si autosospendono. Sospendono richieste all'ottito per i biglietti dello stadio, ermini, basta giochi di potere e traffici venali. Insomma sembra che proprio sia un coinvolgimento a tutto tonno per quanto riguarda un elemento della nostra società che è così principale, che è così fondamentale proprio per l'attività di tutti. Insomma la magistratura è l'organo competente a giudicarci ma quando incominciano ad esserci sospetti sempre più acclarati diventa complicato anche credere in quella che è la vera e propria giustizia. Giustizia che troppo spesso viene annunciata come qualcosa di veritiero ma in questo caso sembra essere proprio stravolta da qualsiasi altra situazione. Situazione insomma vediamo che la realtà si presenta proprio complicata. E vediamo ancora gli altri fatti in primo piano, il governo e i calcoli sbagliati nell'editoriale di questa mattina, le leggi e il futuro. Mentre nella parte centrale della pagina calcio Macron, e lo vediamo nell'immagine, in campo contro la Super Champions. Il presidente francese dice dobbiamo tutelare i nostri club e ancora nella parte destra la questione morale anche tra i magistrati. Infine vediamo nella parte più bassa della pagina, il nodo dell'Europa sul debito italiano, lega Movimento 5 Stelle e finalmente c'è l'intesa sui cantieri. Mentre nella parte sinistra la falsa idea di poter crescere facendo debiti. Ormai ci hanno abituato proprio a questa realtà, sembra davvero che siamo convinti che i debiti siano il nostro pane quotidiano, ma la realtà è tutt'altra perché più ci si indebita, più difficile sarà sopperire a quelle spese che un tempo si credeva di poterla sostenere. Ancora vediamo gli altri fatti, ci spostiamo sulla verità. Nasce lo sblocca Salvini, il governo riparte e dice il quotidiano La Verità questa mattina. Per ora Di Maio e Conte cedono sull'ementamento del carroccio e scongiurano la crisi. Griglino Saracolle, vogliamo andare avanti. Sventato il primo tentativo di spallata, ma ce ne saranno altri. Questo è l'avvertimento che dà proprio la verità. Intanto la difesa calpestata, ben svegliati colleghi generali, però forse è tardi. E nella parte centrale della pagina una notizia che ci farà rimanere tutti a bocca aperta. Tenta di violentare una bimba già libero. A Roma pedofilo appena scarcerato, viene bloccato giusto in tempo dai passanti, ma non finisce dentro. Pensate un po', quindi colto in flagranza di reato, eppure la realtà si presenta completamente diversa da quella che vorremmo. Ossia chi viene trovato a compiere un reato simile, perché è proprio uno di quei reati sempre più gravi, che cosa gli viene assicurato? La libertà. Insomma, questo non va proprio bene. E ancora il passo verso l'abisso, ragazza di 17 anni ottiene l'eutanasia perché è depressa. E ancora nella parte bassa della pagina la flat tax è arrivata, almeno per i pensionati, mega incentivi per chi rientra dall'estero. Ancora vediamo le altre prime pagine. Andiamo su Il Fatto Quotidiano. Vediamo che nella parte alta della pagina si parla di Firenze. La superassessora della Giunta Nardella è figlia dell'Avvocato dei Poteri Forti. E qualcuno si stupisce se il PD non ha risolto i conflitti di interesse. Mentre in apertura di pagina ci troviamo proprio la notizia relativa al governo, la pace armata, una contraddizione in termini, e la quiete dopo le tempeste. Giornate di calma apparente, ma la domanda è quanto durerà? Governo tregua 5 Stelle, lega il Colle, avverte Salvini. Mentre per il CSM contro nuova P2, ma altri nomi nelle carte. E intanto vediamo Conte le due, Italia divise dalla Costituzione, nella parte centrale della pagina. Eccoci qua, la storia di Noa, violentata da bambina, poi l'anoressia, sceglie di morire in casa. Olanda, suicidio di Stato a 17 anni dopo lo stupro e la depressione. Diceva una disperazione addosso così devastante che la vita non la voglio più. Aveva scritto un libro e aveva un profilo Instagram con 10.000 follower. Domenica, l'addio. Insomma, una notizia che viene messa proprio in primo piano sui quotidiani nazionali, che viene messa in prima pagina. Ovviamente si griderà allo scandalo, si griderà alla situazione sempre più complicata. Però ci poniamo un interrogativo. Questa ragazza che vita sta conducendo e soprattutto perché non si è riusciti a fare nulla per lei? Insomma, sono tante domande che ci dovremmo porre piuttosto che andare a giudicare il singolo caso. E veramente rapportarci proprio a quello che è il mondo e soprattutto, una volta tanto, metterci nei panni altrui. Troppo spesso siamo abituati a rimanere chiusi nel nostro mondo e dire quello che io penso è giusto così. Il resto, però, non è problema mio. E ancora vediamo gli altri fatti. Vediamo nella parte bassa della pagina. Annie Ernault, l'intervista del Me Too ci ha reso meno sole. Femminismo, dice, non per decreto. Insomma, ancora una volta si parla di femminismo, però questa volta in maniera diversa dal solito. Ancora vediamo libero il governo alle ore contate. Conte non tira a campare. Allora tirerà le cuoia. Il premier e Di Maio si illudono di imbrigliare Salvini per tenersi il posto. Invece dovrebbero farsi da parte. Poi Mattarella stabilirà quando votare. Gigino sale al colle e dopo propone la pace a Matteo. E intanto vediamo le altre notizie in primo piano. Vediamo il compleanno di Pippo Baudo, grande vecchio della TV, venerdì uno show per celebrare gli 83 anni di Baudo. E ancora, siccome non sanno cosa fare, decidono di non fare niente. E si parla dei giudici litiganti che a quanto pare si allungano le ferie. Nella parte bassa della pagina, invece, un detenuto per bene si sfoga. Lavoravo in carcere, adesso me lo vietano. E ancora massacrano la figlia perché è una disabile. I genitori avveleniamo la scimmia. Pensate che cosa deve essere anche questa situazione. E anche in questo caso non ci sono parole. Ancora vediamo il giornale comica finale. Crisi congelata. Di Maio sale al colle. Offre un finto rimpasto di governo. Baratto fa salva cantieri e salva Roma. Però è tregua armata. Flop quota 100. Più pensionati e meno assunti. Ancora vediamo più risse che leggi. Un anno buttato via. Anche qua un caso scuote l'Olanda. Ha stuprata da bimba e depressa. No, l'etanasia sciocca a 17 anni. E ancora vediamo gli altri fatti. Nella parte bassa della pagina, il titolo è proprio così. Ma come cattolici noi ti chiediamo scusa. Sgomenta l'età a 17 anni. Sgomenta quella precarietà che affonda nei misteri della psiche. Non una malattia fisica che ti divora come un drago. Ma un cumulo di sofferenze insostenibili per lo spirito. Come uno zaino troppo pesante che nessuno ha aiutato Noa a portare. Così la vita passisce prima ancora di sbocciare. E' appunto su questo che vorrei prestare l'attenzione oggi. Proprio su quanto ci sentiamo molto spesso soli di fronte alla realtà insormontabile. E troppo spesso non consideriamo che ciò che c'è dentro di noi, insomma, quel male di vivere che ci portiamo dentro e che non è fisico ma assolutamente spirituale. Che appunto è invisibile agli occhi degli altri ma assolutamente visibile per noi che ce lo portiamo dentro. Insomma, prestiamo veramente attenzione a tutte le piccole cose. Ancora vediamo altri due PM si sospendono. Il CSM ora rischia la paralisi. Magistratura nel Pantano. E nella parte bassa della pagina, fake news di Greta e company valgono solo lo 0,001% delle emissioni. Fermare tutte le auto non ferma il CO2. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo questa volta su Quotidiano Il Tempo. Una telefonata allunga la vita a Conte. Finalmente di Maio Salvini si parlano via smartphone e sbloccano appalti a Roma. E Roma il grillino sale al colle per dire che per ora si va avanti. Disponibile pure al rimpasto. Premier rasserenato ma teme nuovi scossoni dopo i ballottaggi. E intanto vediamo proprio un colloquio in questa pagina. Una foto. E per quanto riguarda il centro-destra, Silvio ipoteca la sua villona in Sardegna e compra la casa di Marco Columbro. Ancora vediamo nella parte bassa. Roma è di nuovo in mezzo ai rifiuti. È di nuovo in mezzo ai rifiuti. L'Ama è in tilt. Un disastro. La partenza del nuovo contratto di servizio. Anche la raggi è furiosa. Altra causa dell'ex. A.D. Ancora nella parte bassa della pagina. La musica contro la depressione. C'è un'arpa che suona nel cuore di Villa Borghese. Mentre si indaga a Trigoria un corpo carbonizzato trovato nel rogo dei rifiuti. E ancora nella parte bassa della pagina. Processo le gemelle attrici accusate e recidive per aver rubato occhiali in prati. Ancora vediamo le altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo la Repubblica e dall'Europa arriva la bufera. Eccolo qua. Proprio la relazione che sussiste al momento tra i due vice premier. Intesa sugli appalti. Finta tregua tra Salvini e Di Maio. Ecco il documento che inchioda il governo. Tutto da rifare sui conti. L'Unione Europea boccia il reddito di cittadinanza e le pensioni a quota 100. Il debito italiano pregiudica il futuro delle nuove generazioni. Mentre l'inchiesta sulle toghe. CSM a pezzi. Via 5 toghe. Le nomine fatte di notte. E nella parte più bassa vediamo quella che è la strategia della sopravvivenza. Fatta appunto di accordi sotto banco per continuare a far vivere il governo. Ed ancora Radio Radicale. Un punto ancora in primo piano. Convenzione verso la proroga. E intanto nella parte destra della pagina. La scelta di Noa. Depressa dopo uno stupro. Ha voluto l'eutanasia a 17 anni. E ancora nella parte bassa della pagina. Kunz & Company. Quegli artisti un po' copioni. E appunto viene raccontato proprio in questa pagina. Ma chissà di che cosa staranno raccontando. E ancora vediamo il manifesto in questo mercoledì. Armini. Traffici venali nel CSM. Guerra tra toghe. L'affondo del presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Mentre in un'intervista a Riccardo De Vito. Dice nel Consiglio c'è una vera e propria questione morale. E nella parte centrale della pagina. Il titolo è Telefono Amico. E infatti sull'urlo di una crisi di governo. Di Maio chiama Salvini. E sul filo del telefono. Smuca la mediazione per lo sblocca cantieri. Il capo dei 5 Stelle si rianima. Sale al collo e tranquillizza Mattarella alla vigilia della lettera dell'Unione Europea. Ma la Lega resta minacciosa. Ne riparliamo tra 15 giorni. Insomma c'è un limite a tutto. E ancora nella parte bassa della pagina. Ecco qua. Londra contro Trump. Che non vede Corben. American Psycho. Viene titolato così questa notizia. Il capitalismo digitale. Non solo Google. USA. Tutti i big. Adesso vanno sotto inchiesta. E per il Friday for Future Greta non va a scuola e ci dà un'altra lezione. E infatti questo lo vediamo proprio in quest'articolo. Greta Thunberg ha reso noto che salterà il prossimo anno scolastico per dedicarsi al compito di continuare a tenere allerta la terra. Insomma questa è anche una di quelle notizie che ci possono far riflettere ma soprattutto porre tanti interrogativi. Un anno intero senza scuola per combattere per la salute della terra. Ma c'è un ma. A questo punto mettetelo voi però. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano proprio sulle testate nazionali. E vediamo il mattino che cosa ci presenta in apertura in questa giornata. E vediamo nella parte anta alle brevi il libro Leonardo Gourmet tra broccoli e la macchina per gli spaghetti. E intanto si parla ancora della telenovela Sarri, la Juve famelina ma Sarri è già pronto a togliersi la tuta. E intanto cento anni fa quando il mattino scovò padre Pio il frate che fa davvero i miracoli. E nell'apertura di pagina lega Movimento 5 Stelle la tregua forzata. Il rischio della stangata dell'Unione Europea spinge i due vicepremier all'accordo sullo sblocca cantieri. Il leader grillino da Mattarella che chiede di proteggere i conti, oggi il verdetto di Bruxelles. Insomma sono vere e proprie prove di tregua nel governo. Movimento 5 Stelle e Lega trovano l'accordo sullo sblocca cantieri di Maio sale al Quirinale. Bisogna fare presto chiarezza e mettere al riparo i conti pubblici. Ci sollecite il Presidente della Repubblica preoccupato per l'andamento dell'economia. Ma anche dalla necessità per il governo di indicare una figura autorevole alla Commissione Europea. Oggi la valutazione dell'Unione Europea possibile però, attenzione, la procedura di infrazione. E intanto dal Ministro Tria arriva l'allarme per il Sud. I dati sono sempre più sconfortanti. E ancora dal Sud Boccia e Mezzogiorno vuole lavoro? Assolutamente non aiuti. E' proprio il Presidente di Confindustria Boccia che lo dichiara concludendo l'Assemblea dell'Unione Industriale a Napoli. E rilancia infatti l'allarme. Nel Sud il lavoro è senza risposte. E intanto il caso Report. Giù le mani dal caffè napoletano. E infatti, secondo questo articolo, il caffè fa perfino dormire a garbatutto. E il Report che mi rende nervoso con questa storia shock che la tazzulella nostra è una ciofeca. Dopo cinque anni il Report è tornato sul luogo del misfatto. Il gran caffè Gambrinus allora dice tre e mezzo in pagella al caffè. Ora si è degnato di dare un quattro e mezzo, cinque. Stiamo migliorando il gran giustiziere di un mito. Si chiama Anreigonina. Ed è triestino. Dio che noi mettiamo, dicono che noi mettiamo nella miscela troppo robusta perché costa meno. E invece è l'arabica a dare il giusto sapore. Insomma, anche su questo c'è uno scontro aperto tra Nord e Sud. Il caffè come vi piace. Il caffè come è buono. Ma insomma, tutto deve essere giudicato, valutato. Ma ovviamente a fare la differenza, sempre, secondo me, è ciascuno di noi. Insomma, prestiamo un po' di attenzione e diciamo che di prima mattina un buon caffè ci sta sempre bene. Ancora il commento, rilancio voto. Il Paese non può più attendere e ovviamente non possiamo rimanere ancora una volta al palo. Anche qui la povera Noa, la ragazza morta due volte. Mentre si parla ancora una volta di lavoro, la Whirlpool infatti gela di maio. Napoli non è sostenibile, il ministro minaccia, togliamo gli incentivi. E l'azienda, aiutateci a trovare un'alternativa. Questo è il punto centrale proprio di tutte le proteste e di chi scende in piazza per protestare per un lavoro che sta diventando sempre più complicato da sostenere. Quello che si vuole è proprio un aiuto in termini pratici e non assolutamente in altre situazioni, nei contesti. Ma ancora una volta, chi ha un lavoro e sta cercando di tenerselo, se lo vede messo a rischio. Ancora il collo in allarme, terremoto al CSM, si autosospendono altri due magistrati. Infine nella parte bassa della pagina, 30 anni fa, perché TNM non era solo lo studente davanti al cararmato. Ovviamente stiamo parlando della famosa piazza. TNM è una parola magica, un nome che ancora oggi commuove. Ma perché in pratica, in concreto, il preciso che cosa ricordiamo di quella parola, di quel luogo, di quell'evento, a 30 anni dagli eventi. Come spesso succede, ci capita di venire chiamati a commemorare, a celebrare fatti dei quali abbiamo solo una vaga memoria e a proposito dei quali ci vengono fornite informazioni molto generiche e sono addirittura forbianti. Quanti ricordano qualcosa di più nello specifico proposito degli eventi di quei giorni? Certamente hanno in mente l'immagine che sempre viene riprodotta, quella di un uomo, forse uno studente, che impedisce a un carro armato di passare spostandosi mentre il veicolo prova a schivarlo. E insomma, ancora tante realtà, tanti fatti, tante notizie drammatiche, tanti eventi da ricordare di cui spesso però non abbiamo memoria. Ancora vediamo la stampa. Tria promessa all'Unione Europea. Correggeremo i conti con 3,5 miliardi l'anno. Questo l'impegno nell'allegato alla lettera a Bruxelles, oggi via l'iter per la procedura e sullo sblocca cantieri, Movimento 5 Stelle cede alla Lega, Di Maio a Mattarella. Andiamo avanti, caso CSM e altri quattro giudici lasciano Cascini e come lo scandalo P2. E intanto vediamo da un lato l'ultimo miglio di Salvini ed ancora nell'Emilia che vota il leader leghista abbandonati dal PD. Questa è la ragione per cui si cambia partito. Ancora vediamo nella parte centrale della pagina. I gabbiani minacciano il paradiso dei fenicotteri in Sardegna. E laddove ci sono i gabbiani sembra che la situazione non sia di quelle migliori visto che troppo spesso vengono, cioè non è che troppo spesso, i gabbiani sono definiti proprio uccelli spazzini e laddove si trovano i gabbiani troppo spesso ci sono proprio situazioni incomprensibili. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Li vediamo questa volta su Il Dubbio. Arriva anche a Milano e ancora vediamo nella parte alta della pagina CSM la frustata di Ermini. Riscatto sarà la fine. Le procure ormai sono nella bufera. Basta spartizioni, serve un'autoriforma. Infatti è il plenum del CSM più pesante nella storia dell'autogoverno. E a quanto pare peso che vibra nelle parole del vicepresidente Davide Ermini basta con le degenerazioni del correntismo. Sapremo riscattare con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti. Il riscatto, secondo Ermini, passa per l'addio alle logiche spartitorie nell'assegnazione degli incarichi che devono essere messi a riparo da interessi esterni. Insomma, un discorso così coraggioso che a riconoscere il valore nel dibattito subito aperto se ieri pomeriggio sono tutti togati ma anche laici. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina Di Maio e Madame Mattarella andiamo avanti se telefonando è tregua tra i vicepremier. E ancora nella parte destra della pagina il giudice Salvini basterebbe nominarli per sorteggio. Infatti in questi giorni i vertici della magistratura offrono uno spettacolo desolante sia componente del CSM sia della Procura di Roma in cui uno dei magistrati coinvolti Luca Palamara non era un sostituto qualunque ma è stato segretario nazionale dell'ANM. E ancora sia servizio e non un privilegio infatti sono anni ormai che certi riti del CSM sono sotto l'occhio del ciclone. Dopo le recenti notizie sul caso Palamara la misura è colma e la politica, approfittando del crescente malcontento dell'opinione pubblica potrebbe in realtà approfittarne. Ma la domanda che si pone il dubbio proprio in questa giornata è chi deve controllare i controllori e infatti Platone ne parlava con sarcasmo già 500 anni prima di Cristo. Giovenale sardonicamente spiegava che affannarsi per riuscirci era sforzo vano. Questo per dire che quis custodit ipsos custodes chi custodisce i custodi è una faccenda che si trasmette e si trascina ormai da tempo. Insomma, chi è che deve controllare chi? Eh, questo è il dubbio più grande ovviamente il dubbio ce ne fa menzione e soprattutto risalta proprio questa differenza. Ma adesso ci spostiamo andiamo a vedere lo sport con il Corriere dello Sport vediamo ancora la vicenda Sarri alla Juve senza tuta pronto a indossare giacca e cravatta per tornare in Italia il tecnico si confessa la vigilia del suo approdo alla Juve. E intanto nella parte centrale della pagina Firenze americana si chiude dopo 17 anni l'era della valle. Non siamo mica gli americani non è più un calcio per ricchi sani insomma queste le lettere e i commenti che vengono fatti accordo totale per il passaggio a Rocco Commisso la Fiorentina costerà tra i 165 e i 180 milioni di euro e il closing ufficiale forse già entro domani sera Gattuso in corsa per la panchina poi il caso Chiesa ancora una volta da risolvere. E infine nella parte bassa Fonseca alla Roma raggiunta l'intesa mentre Sinisa Bologna tre anni e l'Europa e ancora ci spostiamo su una testata sportiva vediamo tutto sport in apertura Sarri veste Juve lo vediamo sorridente in questa immagine l'intervista a Vanity Fair se me lo chiedono posso togliere la tuta il richiamo dell'Italia è forte i tifosi napoletani sanno l'amore che provo per loro ma la professione può portare ad altri percorsi e non si resta fedeli a una moglie da cui hai in realtà divorziato. Ecco le due carte per riportare Pobba a Torino. Insomma questa è la vicenda che sta appassionando tutti gli sportivi ma soprattutto che adesso troverà il distacco e soprattutto la grande delusione dei tifosi napoletani. Noi ci fermiamo qui solamente per un momento dopodiché ritorniamo e continuiamo a parlare di fatti quindi non andate via. e continuiamo a parlare e continuiamo a parlare All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL Viale Lincoln zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio vi ricordo ancora una volta che oggi è mercoledì 5 giugno e soprattutto siamo in diretta con questa rassegna stampa che continua dalla prima parte in cui abbiamo visto i quotidiani nazionali adesso andiamo a vedere tutti i fatti che riguardano la regione Campania e partiamo proprio da una notizia di cronaca Cosentino processo carburanti l'ex sottosegretario è stato assolto. Stessa decisione della Cassazione anche per altri due fratelli legali vicenda dolorosa ma la giustizia ha prevalsi infatti la Corte di Cassazione ha confermato rigettando il ricorso presentato dalla Procura Generale dalle parti civile la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 14 ottobre 2018 aveva assolto l'ex sottosegretario all'economia del PDL di Cola Cosentino i fratelli Giovanni Antonio e gli altri imputati del processo cosiddetto carburanti relativo ai fatti concernenti l'azienda di famiglia di Cosentino la Versana Petroli e le accuse erano a vario titolo di assorzione illecita concorrenza con l'aggravante mafiosa in primo grado l'ex politico di Casal di Principe era stato infatti condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere mentre i fratelli Giovanni e Antonio erano stati inflitti rispettivamente condanni a 9 anni e mezzo e 5 anni e 4 mesi e assolti anche il funzionario della Regione Campania Luigi Letizia condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi inoltre i dipendenti della Kuwait Bruno e l'imprenditore ritenuto vicino al clan Zagaria Michele Patrizio Sagliocchi insomma una vicenda che trova ancora una volta conferma e soprattutto un ribaltamento di quello che è stato il primo grado di giudizio ancora vediamo le altre notizie in primo piano si parla ancora di cronaca e questa volta della bufera procura NM Napoli i consiglieri coinvolti si dimettano linea dura e sdegno rispetto alle condotte che gettano discredito sull'istituzione e infatti per salvaguardare e non coinvolgere le istituzioni i consiglieri che sono o dovessero risultare coinvolti diano immediatamente le proprie dimissioni a chiederlo è l'assemblea distrittuale dell'associazione nazionale magistrati la sezione di Napoli che si è riunita nel laurea arengario del nuovo palazzo di giustizia quattro le mozioni presentate davanti a oltre 250 magistrati con 182 voti ed è stata approvata la mozione che recepisce il documento approvato dall'assemblea NM di Milano che si è svolta proprio nei giorni scorsi e ancora vediamo un'altra vicenda in primo piano che riguarda proprio tanti lavoratori la vicenda è quella della Whirlpool Napoli Di Maio dice l'azienda ha avuto 27 milioni di fondi pubblici non si prende insomma in giro lo Stato si tirna degli operai a Roma l'azienda non vogliamo chiudere tavolo riaggiornato fra una settimana e infatti è il tavolo al mese per la vertenza Whirlpool Napoli due ore di faccia a faccia il vicepremier Di Maio alza i toni e attacca dicendo che lo Stato è stato preso in giro e l'azienda dice di cercare una soluzione che non sia la chiusura al tavolo hanno assistito i sindacati FIM FIOM e Wilma mentre sotto il ministero gli operai in sit-in cantavano l'inno d'Italia e secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro il tavolo è stato riaggiornato fra una settimana per dare tempo all'azienda di riflettere su possibili soluzioni alternative anche perché la situazione adesso rimane sempre più temibile soprattutto per tanti lavoratori perché in generale sono proprio loro che ci vanno a rimettere ancora vediamo le altre notizie in primo piano si parla di Universiadi ancora una volta la corsa contro il tempo per completare i lavori al San Paolo e infatti cantieri aperti in vista dell'Universiadi tour fotografico negli impianti cittadini a San Paolo si lavora anche di notte sedioline ancora da sistemare pronta invece la pista d'atletica e la fast track la stessa che esaltò lo Sprinter Bolt a Rio de Janeiro mentre a buon punto la piscina Scandone anche la vasca esterna la piattaforma per i tuffi alla mostra d'oltre mare il villaggio del rugby nell'ex nato completato il pala barbuto intanto vediamo le immagini di questi lavori in corso soprattutto per quanto riguarda le strutture sportive ecco qua vediamo le strutture sportive che aderiscono a questo grande evento che si svolgerà a luglio in tutta la campagna e che ha portato beneficio sta portando beneficio a tante strutture che effettivamente fino a questo momento erano proprio considerate ed erano in realtà abbandonate e adesso invece riescono a vedere una nuova luce e soprattutto a creare nuove prospettive per poter risorgere proprio come una fenice dalle sue ceneri e ricominciare a vivere anche perché lo sport è l'essenza di tante cose e soprattutto è l'essenza della vita fa così bene a tutti e cerchiamo di praticarlo il più possibile se abbiamo delle strutture disponibili proprio per renderlo fattibile perché no ma ancora vediamo da Napoli quelle che sono le notizie in primo piano e si parla ancora una volta di Noemi però questa volta non per parlare della sua salute che ovviamente ci fa piacere raccontare perché è in miglioramento ma perché un suo disegno pensate un po' diventa manifesto di legalità nasce infatti l'arca di Noemi è un'associazione promossa proprio dai genitori di Noemi che si impegnerà per la legalità e contro la violenza sui bambini i magistrati e personalità della cultura hanno già confermato la loro collaborazione e vediamo insieme il disegno ecco qua i bambini che hanno prestato le proprie mani Fabio e Tania genitori della piccola Noemi la bimba ferita in un agguato a piazza nazionale lo scorso 3 maggio per ringraziare tutti della solidarietà e dare una risposta forte per il grande miracolo ricevuto con il risveglio di Noemi hanno annunciato attraverso i loro avvocati Angelo e Sergio Pisani il loro impegno a tutela di tutti i bambini e dato vita all'associazione l'arca di Noemi un disegno della piccola diventa il manifesto che invita tutti i bambini a salire sulla barca della legalità e serenità e i genitori della piccola Noemi fanno sapere i legali intendono schierarsi contro la criminalità ed essere tutti uniti per combattere ogni tipo di violenza sui bambini che possa essere la mafia o maltrattamenti in famiglia scopo dell'associazione e anche seguire il processo contro il principale indiziato Armando del Re ancora ci spostiamo sugli argomenti che riguardano la nostra regione Campania e vediamo ancora la cronaca Banda del Buco secondo colpo in due giorni paura in un ufficio postale a Chiaia i malviventi sono entrati in azione alle 8.30 alle poste di Via Pontano anche questa volta facendo irruzione dalle fognature malore per un dipendente e infatti si parla di una nuova rapina venuta in una banca di Piazza Carità già in precedenza ad opera di una banda del Buco questa volta i radri hanno colpito l'ufficio postale di Via Pontano a Chiaia insomma sempre più timori per chi lavora e si trova in queste vicende e ancora la cronaca continua a farci parlare di fatti che non vorremmo sentire anche perché si parla del carcere di Nisida ma questa volta di un'evasione in piena regola stiamo parlando di due minorenni nordafricani la denuncia del sindacato autonomo di polizia penitenziaria che ancora una volta lamenta proprio la carenza di personale e non solo due minorenni nordafricani sono evasi da carcere minorile di Nisida per l'evasione è stata avviata un'inchiesta dal ministero competente il segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria ha donato capice denuncia con troppa superficialità sono state trattate e gestite le molte denunce fatte da Sappe sulle condizioni di sicurezza all'interno della struttura e questo è il primo allarme che troppo spesso è stato ignorato ancora vediamo invece una bella notizia per una donna che a quanto pare con un euro e cinquanta ne vince 870 mila protagonista infatti una donna vesuviana domenica 2 giugno la donna ha vinto il mega jackpot di un altro casino online mentre giocava alla slot machine insomma non serva questo da esempio per fare la stessa cosa però sicuramente questa donna che ha vinto questo premio fantasmagorico potrebbe utilizzare quei soldi per fare qualcosa di positivo per sé e per gli altri e ancora vediamo le altre notizie questa volta ci spostiamo su Caserta News dove vediamo la cronaca ammazzata della Corte dei Conti buco da 2,7 milioni contestato a ex sindaci ed assessori gli ex amministratori di Aversa nel Milino per la mancata riscossione dei canoni per gli alloggi di San Lorenzo e infatti è proprio un terremoto politico giudiziario che colpisce Aversa a pochi giorni dal ballottaggio del 9 giugno la Corte dei Conti della Campania indaga infatti due ex sindaci due ex assessori e tre dirigenti per danno erariale in merito alla mancata riscossione dei canoni degli occupanti degli alloggi comunali di via San Lorenzo e per la procura contabile ci sarebbe un buco erariale di circa 2,7 milioni di euro per la cattiva gestione dei 136 alloggi comunali quasi tutti abusivamente occupati e per i quali il comune non si sarebbe in realtà mai impegnato nel recupero delle somme mai pagate o nel liberare gli alloggi appunto occupati abusivamente e ancora continuiamo a vedere gli articoli che arrivano da Caserta News blitz in laboratori e calzaturifici sequestrate 16 aziende nei controlli della finanza sono stati individuati anche 300 lavoratori in nero parallelamente all'esecuzione del piano di intervento regionale per il contrasto ai roghi di rifiuti che ha visto da ultimo operare insieme sotto il coordinamento delle rispettive amministrazioni centrali e fiamme gialle gli ispettori territoriali del lavoro delle diverse province campane i reparti territoriali dipendenti il comando provinciale guardia di finanza di Caserta hanno dato avvio ad un'autonoma articolata attività ispettivamente ad oggetto le aziende del settore tessile e calzaturiero con i laboratori attivi nei comuni e provincia ricompresi nella terra dei fuochi insomma si va avanti in questa vicenda che serve proprio per appurare determinare quelle che sono le aziende che lavorano in nero con dipendenti in nero e che producono sotto banco merce che produrrà poi scarti che ovviamente verranno abbandonati in quella che è stata denominata terra dei fuochi ma alla fine è semplicemente una terra dell'incuria in cui il rispetto non esiste e ancora vediamo da caserta focus altre notizie di politica a casa Pulla il sindaco Renzo Lillo vara la giunta Sorbovice dentro Buro Melchiorre e Martuscello e vediamo infatti che il nuovo sindaco di casa Pulla Renzo Lillo vara la sua prima giunta poco più di una settimana della vittoria elettorale nasce l'esecutivo di casa Pulla al centro lo vediamo nell'immagine insomma questo in direzione di quelle che sono ancora le elezioni ballottaggi di domenica prossima domenica 9 giugno in attesa che si confermino e si determinano le altre amministrazioni comunali noi terminiamo qui anche la rassegna stampa di oggi vi ringrazio come sempre per aver scelto Teleprima e questo momento dell'informazione ringrazio anche Tecno Campus che ogni mattina ci offre la possibilità di commentare le notizie e farlo in diretta con voi e soprattutto vi auguro una deliziosa giornata ma soprattutto ancora una volta vi dico ci vediamo domani stesso posto stessa ora buona giornata a tutti buona giornata buona giornata questo programma è stato offerto da Tecno Campus Grazie a tutti